Il Vice Comandante Nazionale Cuffa, Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, Generale di Divisione Nazario Palmieri, è stato in visita a Longarone. Accompagnato dal Generale Francesco Pennacchini, Comandante Regionale dei Carabinieri Forestali, dal Tenente Colonnello Riccardo Corbini, Comandante Provinciale, e dal Tenente Colonnello Federico Corrado, nuovo Comandante del Raggruppamento Parco, ha effettuato un sopralluogo al cantiere della nuova caserma dei Carabinieri Forestali del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in fase di realizzazione negli edifici dell'ex distretto sanitario di Longarone. Con i militari erano presenti anche il Presidente del Parco, Ennio Vigne, il Sindaco di Longarone, Roberto Padrina, e il Presidente dell'Unione Montana. I lavori, come illustrato dall'architetto Alessandro Sacchetta, proseguono secondo cronoprogramma e prevedono la costruzione della foresteria, degli uffici e anche dell'info-point del parco. A margine del sopralluogo, il Generale Palmieri si è soffermato anche per una breve visita sui luoghi del Vaillon, in particolare al Museo Fotografico, dove il Sindaco ha spiegato brevemente le vicende precedenti e successive a quel 9 ottobre 1963. Il Generale è stato particolarmente colpito da una foto aerea scattata sopra la diga il giorno dopo il disastro, in cui si vede chiaramente l'effetto della distruzione provocata dall'ondata.